E adesso dechiamo questo articolo a Daniele Siavone quindi, al trono rosa di Giulia Quattro Ciocche. Lei 27 ettari anni e già in trammissione ha mostrato di essere molto interessata da lui. E sembra contraccambiare. Inoltre i due condiviono anche il fatto di essere entrambi romani. Ovviamente non si conoscevano. Ovviamente non vi sto facendo spoiler, ma sappiate che ci sono degli interessanti svilutti nelle anticipazioni di Uomini e Donne del Trono Classico. Ma qualcosa ve la possiamo anticipare ossia e viene direttamente dal settimanale Uomini e Donne Magazine dove il corteggiatore svela che, in un secondo momento, però, ho preso consapevolezza del fatto che Giulia era molto più simile e si avvicinava di più all'ideale di ragazza con cui solitamente mi piace relazionarmi. E aggiunge sulla tronista di Uomini e Donne che Giulia si è dimostrata una persona spontanea, con la risposta sempre pronta e molto ironica, proprio come piace a me. A primo impatto l'ho vista a fine al mio carattere, perché ha una personalità molto forte. E da quanto pare Daniele Siavone è rimasto molto colpito al punto tale che Giulia è spontanea, limpida, vera. È difficile trovare donne con questo temperamento e che dimostrino fin da subito di non permettere a nessuno di metter loto i piedi in testa. Ed in merito alle esterne che fa con lei dice che Quando parliamo, e ci guardiamo è indubbio che ci sia una grande affinità. Mi sento molto complice e in sintonia con lei. Sempre lo stesso corteggiatore ci tiene a precisare che per lui la bellezza non conta molto ma preferisce valutare la persona. Insomma sembra che sia bello preso. Non credete.